Siamo qua con il bomber Martina Boschi, è un po' distratta perché è l'emozione, tutti sono state le sue emozioni, a chi dedica il gol? Alla mamma, perché me l'ha chiesto, lei è la madre? Io sì, va benissimo, emozioni al gol della figlia? Eccezionale, migliore di giorno dopo giorno? Sì, sì, tutti i miei sauriti, scusate l'avversaria, è stata la migliore in campo direi perché non si è presentata e quindi sicuramente è andata bene, sicuramente sarà brava e per questo è stato condannato, basta, andiamo.